Oh! Ehi! Tante grazie, Vucca! Ti sei mangiata tutti i ciccioli e mi hai lasciato a me casciutto! Ah! È l'ultimo! Ce lo possiamo dividere? Beh, meglio mezzo cicciolo che un pugno nell'occhio! Adesso basta! Così non si può più andare avanti! Guardate che cosa avete combinato! Che disastro! Bisogna prendere provvedimenti! Siete insopportabilmente indisciplinati! Voi due andrete in una scuola militare stasera stessa! Voglio che diventiate veri uomini! Salve! Io sono il vostro sergente istruttore! Benvenuti nella vostra nuova casa! Sull'attenti, soldati! Mi fate venire la nausea! Smidollati e codardi che non siete altro! Soprattutto... Attenti! Me lo spieghi cosa sarebbero queste, soldato? Sono le mie mammelle, signore! Certo, capisco! Avanti! Mars! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due! Stai comodo? Oh, pensavi forse che mi fossi dimenticato di te? Ecco fatto! Va meglio? Oh, sì, grazie! Adesso mi sento... Chiudi quella boccaccia! Non vi preoccupate, sono una spuntatina piccola piccola... Uno, due, uno, due, uno, due! Una ciambella con la cioccolata, per favore! Questo posto non mi piace per niente, pollo! Non piace neanche a me, buca! Fate silenzio! Sbrigatemi a mangiare! Oh, disgustoso! Oh, la pausa per il pranzo è terminata! Sette, cinque, nove, tre! Chissà farti conto, è un re! Compagnia! E adesso, Pappemolli, la corsa nei preumatici! Coraggio, signorine! Di corsa! A fuoco!